Chiara Ferragni entra ufficialmente nel registro degli indagati. La procura di Milano ha infatti modificato l'ipotesi accusatoria nell'inchiesta sul caso del Pandoro Pink Christmas da frode in commercio a truffa aggravata dalla minorata difesa del consumatore e che vede coinvolte oltre l'influencer anche l'amministratore delegato e presidente dell'azienda Balocco. Come cambia allora ora la posizione dell'influencer e come siamo passati dall'ipotesi di frode in commercio a truffa aggravata ma soprattutto quando possiamo parlare di truffa aggravata e cosa si rischia in caso di condanna. Conosciamo ormai la vicenda per la quale le due società vengono accusate di pubblicità ingannevole nei confronti dei consumatori. Come si legge infatti sull'informativa dell'autorità le due società hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il Pandoro Griffato Ferragni avrebbero contribuito ad una donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino, cosa che però di fatto non è avvenuta a meno della sola donazione pari a 50.000 euro che in realtà era stata già effettuata dalla sola a Balocco mesi prima, più un cachet per la Ferragni per pubblicizzare la vendita del prodotto pare a un milione di euro. Per questo inizialmente l'antitrust aveva combinato una sanzione di oltre un milione di euro alla società riconducibile alla Ferragni e di 420.000 euro alla Balocco per pratica commerciale scorretta. Uno scenario che però poi cambia a seguito di una informativa della Guardia di Finanza nella quale si mettono in risalto alcune mail che gli staffe dell'influencer e dell'azienda si erano scambiati già dal mese di settembre 2021, ovvero due mesi prima della sigla del contratto. Questo scambio di mail insieme poi ad altri elementi hanno portato a contestare la truffa aggravata dalla minorata difesa del consumatore. Ma cosa è allora questa truffa aggravata e in che modo si differenzia dalla frode in commercio che era l'iniziale ipotesi accusatoria? Partiamo dalla frode, regolata dall'articolo 515 del codice penale. Si incorre in frode quando chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità, diversa da quella dichiarata o pattuita. È punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con una multa. La truffa invece regolata dall'articolo 640 del codice penale è quando chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. È punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni e con una multa che va da 51 euro a 1032 euro. Una pena di reclusione che invece va da un anno a cinque anni e di una multa da 309 euro a 1549 euro? Se il fatto è commesso a danno dello Stato di un altro ente pubblico? Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'errore convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità? Se il fatto è commesso in presenza dell'articolo 61 numero 5, cioè quando vi è l'aggravante della minorata difesa, che ricorre ogni qualvolta l'autore del reato approfitta di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Nel caso specifico si farebbe riferimento all'acquirente online che si trova in una posizione di svantaggio, ovvero non è nelle condizioni di poter verificare l'identità del venditore e la qualità effettiva del prodotto. Insomma, la posizione della Ferragni e con lei anche quella della Balocco non è delle migliori. A breve verranno sentite tutte le parti in causa e solo allora avremo le prime ricostruzioni di questa spiacevole quanto grave vicenda. Se dovesse emergere l'esistenza di un collaudato sistema di truffa, il rischio di un processo penale sarebbe molto alto.